Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori stoffe idropelle. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la termostufa a pelle. Il layout davvero elegante lo rende particolarmente ideale per le aree a condizione di cura. Se messo in un soggiorno non smetterà certamente di lavorare per stupire gli ospiti con le sue tonalità positive così come con il suo vetro dove sarà possibile ammirare il fuoco, come se fosse un luogo di fuoco. Immune a 750 livelli, il vetro in ceramica unisce il rivestimento in acciaio per garantire resistenza e isolamento termico ottimale. Infatti, sarà possibile avvicinarsi al forno senza alcun pericolo. Al numero 4, abbiamo la Nordica. Sviluppato per fornire supporto e un sistema pulito a chi è alla ricerca di riscaldamento domestico con pelle, il modello Idrostel 2.0 ha raggiunto la qualifica di aria pulita, con un totale di 4 celebrità. Nella posizione frontale ci sono anche varie funzioni. Come il controllo elettronico dello stress per un'adeguata sorveglianza dei livelli di stress idraulico. Sul fronte della sicurezza, il sistema è dotato di una comoda serratura vitale. Al terzo posto, abbiamo la stufa pelle KW.15. Gamma di idropelle di fascia alta che sorge con una finitura in acciaio verniciato che lo rende anche bello da guardare così come quindi può essere montato in qualsiasi tipo di atmosfera senza danneggiare il resto degli arredi. Uno dei suoi attributi più pregiati è la certificazione Klenair K, sulla base di una varietà di stelle assegnate per prodotto che utilizza un gas naturale legname, pelle. Al numero 2, abbiamo il stufa a pelle. Può riscaldare enormi aree e ha anche una serie di funzioni molto preziose come il controllo dinamico della combustione e anche la programmazione quotidiana o settimanale. Ogni piccola cosa sarà certamente facilmente configurabile da un pratico schermo sensibile al tocco. Le prestazioni elevate sono garantite dalla piccola potenza termica di 9,26 KW e da 8000 K al barra H. Per questi fattori abbiamo deciso di includere questa versione tra i piani di cottura idropelle più efficaci del 2020. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il stufa a pelle. La dimensione ottimale di una casa che può riscaldare senza iniziativa e di 340 metri cubi. Il contenitore permette di posizionare un ottimale di 26 kg di pelle, mentre l'acqua, costantemente da collocare nel contenitore adeguato, può raggiungere un massimo di 17 litri. L'efficienza di questo piano di cottura a pelle idro raggiunge il 96,3% del calore che genera, che è sicuramente di grande livello e garantisce anche il calore adeguato per tutte le impostazioni senza rifiuti non utilati di pelle. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.